Nell'anno di Torino Capitale Europea dello Sport 2015, il Consiglio regionale rende omaggio al mondo sportivo del Piemonte con un video che rievoca le eccellenze passate e presenti, anche di assoluto livello mondiale, che fanno della nostra regione la culla dello sport italiano. Le testimonianze dirette dei protagonisti sono state raccolte in un video della serie Piemonte Memoria, realizzato dall'Ufficio Stampa del Consiglio, ora online su crpiemonte.tv